Sarà una Virtus Francavilla particolarmente giovane quella che giocherà il prossimo campionato di Serie D. Nelle ultime ore sono stati infatti ufficializzati altri tre calciatori under, Ettore Cristian Rizzo, Diego Negro e Matteo Bertini. Per i primi due possiamo parlare di conferme dopo le esperienze che hanno visto il terzino classe 2005 ed il portiere suo coetaneo rispettivamente impegnati a Barletta e Teramo. Rizzo, tarantino di nascita ma prodotto del settore giovanile biancazzurro, si è ben messo in mostra negli ultimi due campionati di Serie D, prima al Flaminia e poi a Barletta, dove è stato allenato proprio da mister Ginestra e dove ha raccolto 30 presenze realizzando anche un gol. Discorso analogo per Negro che in prestito a Teramo ha vinto il campionato di eccellenza abruzzese. E un volto nuovo invece quello di Matteo Bertini, anche lui classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Un doppio innesto tra i pali che toglie ogni dubbio circa l'impiego dell'under di mezzo che verrà dunque schierato in porta. L'impressione è che nelle gerarchie possa partire avanti Leo Chevers, ossia l'unico dei tre che vanta almeno un anno di esperienza da titolare in Serie D dopo l'annata trascorsa al San Marzano. Entro questa settimana verranno ufficializzati anche il centrocampista ex Brindisi Winston Sisai ed il terzino 19enne ex Prato e Campobasso Simone Lambiase di proprietà del Bari. Il numero dei calciatori a disposizione di mister Ginestra in vista del raduno di lunedì sale dunque a 21, 10 di questi sono under.